Ce l'hai un accendino? non ti ho mai visto qui? è casa di un amico non è mia da qui si vede l'aria latte davvero ha fatto l'occhiolino che sarebbe quando qualcuno ti guarda dall'assù ti ha visto e te lo vuole fare sapere beh farebbe sentire meno soli ma non siamo soli dicono dicono che gli alieni ci guardano beh con tutto quello spazio effettivamente sarebbe stupido non ci fossero che spreco no? si tra l'altro ho letto che li chiamano i grigi arriveranno sulla terra si porteranno via i migliori che stronzi no no ma lo fanno per noi per parlare per capire più di noi può anche essere sai già può essere ti ho sentito cantare dalla porta barare il lampone sei brava no no quello lo faccio soltanto in bagno io io canto i flash e i amons insomma un'altra roba tu che fai nella vita? l'idraulico l'idraulico per essere il migliore? no per quello per quello ci sto lavorando grazie 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 grazie